Oltre a 4.000 persone in corsa a Genova dalle 8 hanno cominciato a radunarsi davanti al barco di San Benigno per questa camminata non competitiva di 6 km tutta all'interno della zona portuale. Il via alle 10 è subito con correnti indirizzati lungo la sopraelevata del porto che costeggia lungo Mare Canepa all'Astra Genova organizzata dal secolo XIX in collaborazione con l'Unione Italiana Sport per Tutti, tutti in maglietta bianca con lo slogan dell'iniziativa solidale accompagnata da una raccolta fondi su base volontaria per finanziare un progetto di recupero, di valorizzazione della zona interessata dal crollo del Morandi progetto che verrà deciso e presentato alla città nelle prossime settimane. Dopo il Ponte del Pape, la Guido Rossa è in versione di marcia all'altezza di Cornigliano e ritorno al punto di partenza, manifestazione densa dei significati simbolici a cominciare dalla data sono due mesi esatti dalla tragedia del Morandi e dalle 11.36 un minuto di silenzio e 43 palloncini liberati in cielo per ricordare le sfortunate vite. Grazie a tutti!